A votare, tutti insieme, a votare la fila, no. Troppa gente, fa caldo, sudano, sono piccicosi, puzzano. Il 12 e il 13 giugno, andate a votare per il referendum. Così, ma mi sembra un po' triste. Un po' triste, hai ragione. Il 12 e il 13 giugno, andate a votare per il referendum, non lo so. È arrivato l'arrotino, che sto facendo? Convinta, convinta. Ma sono convintissima. Con cittadina democratica consapevole, strumenti di democrazia in mano ai cittadini. Posso fare degli esercizi? Vai, esercizi di respirazione, pronti, azione? Il 12 e il 13 giugno, andiamo tutti a votare il referendum. Quorum.